Operazione simpatia andata male per la polizia di New York, che ha chiesto ai cittadini di mandare foto nelle quali sono ritratti assieme agli agenti, spiegando che saranno pubblicate sulle pagine dei social network del NYPD. Le risposte non si sono fatte attendere, ma in gran parte non sono state esattamente del tenore che i poliziotti si attendevano. L'hashtag lanciato dal dipartimento è diventato rapidamente virale ed è stato utilizzato per pubblicare immagini di violenze compiute dagli agenti, manganellate, abusi. Non necessariamente episodi ritratti nella grande mela. Una portavoce del dipartimento della polizia di New York, Kim Royster, ha fatto buon viso a cattivo gioco, sostenendo che l'iniziativa è stata comunque un successo e che questo tipo di dialogo, aperto e privo di censure, è positivo per la città e che la maggior parte della popolazione ha comunque una buona considerazione degli uomini in divisa. Grazie.